Ciao, rieccoci qua con un'altra lezione di Blender Grease Pencil. L'altra volta abbiamo imparato a utilizzare il piano di vista per disegnare. Andiamo ad approfondire ulteriormente il discorso vedendo in che modo andare a disegnare in certi luoghi piuttosto che in altri. Quindi selezioniamo il cubo principale e cancelliamolo. Adesso creo un nuovo oggetto Grease Pencil, lo creo vuoto per semplicità e quindi non avrò nessun materiale. Mi ricordo subito di crearne uno, tanto per esserne sicuro. Abbiamo visto finora che il piano di disegno, si chiama Canvas, eccolo qua, è il piano su cui disegniamo. Finora però lo abbiamo sempre tenuto sull'origine. Ora sono ancora in Object Mode e vado in modalità Draw per poter disegnare. Mi sposto in posizione dall'alto e magari al posto di questo sfondo grigio vado a modificare qui sotto Word, scelgo un colore diverso, completamente bianco per lo sfondo. Però siccome questo è il Word e in questo momento sono nella visualizzazione con i materiali, ma se guardiamo in questo triangolino non stiamo utilizzando il Word della scena, perché questa casellina è senza spunta. Se noi la spuntiamo adesso vediamo le impostazioni di Word della scena, altrimenti molto più semplice ancora è spostarci nella vista renderizzata. Sono qui dall'alto, se immagino di voler disegnare una mappa, nascondo momentaneamente la griglia, posso sempre disegnare una pianta dall'alto, per esempio, di una scena che volessi realizzare, in cui magari qui c'è una strada, poi ho delle cose che ci sono, per esempio potrei avere un oggetto qui all'orizzonte, alcuni oggetti qui sulla strada, magari una montagna in questa zona, qualcos'altro qui, e anche control zoom indietro, e qualcosa qua sullo sfondo come delle altre montagne, però sto visualizzando dall'alto e quindi per ora disegno le cose solo dall'alto, magari ho appunto un'altra casa qui. Ora se mi sposto in prospettiva, ecco che, riattivo un attimo la griglia, disattivo anche il canvas, vediamo che questo è una planimetria. Ora se io volessi disegnare gli oggetti in questa visuale, spostandomi quindi premendo il tasto 1, nel quale mi metto esattamente in corrispondenza dell'asse Y, se io adesso disegnassi qualcosa qui, facessi un albero o una casa, vengono disegnati come abbiamo visto sempre al centro degli assi. Io invece vorrei disegnare questa casa qua in fondo e magari questo albero in corrispondenza di questo cerchio. Ora per poterlo fare, annullo, possiamo utilizzare la modalità di disegno in cui il piano di disegno viene posizionato in base alla posizione del cursore. Il cursore è questo oggetto che vediamo qui in mezzo alla scena e che, se fossimo in modalità 2D animation, non riusciamo a vedere. Dobbiamo ricordarci di visualizzarlo attraverso questo segno di spunta, 3D cursor, e si vede, altrimenti non lo vedremmo. Ripristinando nella visione, noi possiamo sempre spostare il 3D cursor. Per poterlo fare, o utilizziamo questo strumento qua sopra, cursor, e quindi lo premiamo e clicchiamo da qualche parte e vedete che il cursore si sposta, e poi ci ricordiamo di passare all'altra modalità di disegno, oppure possiamo semplicemente con shift tasto destro ottenere lo stesso risultato. Quindi con maiuscolo tasto destro possiamo facilmente spostare il cursore. Quando siamo in una visuale come questa non siamo del tutto sicuri di dove il cursore va a finire, perché guardate adesso è finito là sotto e se io premo esposto il cursore di nuovo, lo vedo qui, ma non so bene dove si trova, è appena al di sotto. Se vado a cliccare quassù potrebbe essere molto in alto, molto in basso, è piuttosto difficile capire dove va a finire. Una cosa sicura è che se ci sono degli oggetti in scena e voi fate maiuscolo, tasto destro e spostate il cursore, il cursore tende ad appoggiarsi su quegli oggetti, però siccome Grease Pencil non è un vero oggetto, anche se io faccio maiuscolo clic sulla riga, non me lo ritrovo sulla riga. Quindi prima di tutto impariamo a riportarlo all'origine degli assi, per farlo piuttosto semplice bisogna premere maiuscolo S e appare questo menu di snap nel quale possiamo scegliere cursor toward origin. Quindi eccolo qua, adesso è tornato qui, quindi in qualsiasi momento se voi lo spostate, maiuscolo S, cursor toward origin e torna D. Se noi ci troviamo in una delle visuali ortografiche, come adesso dall'alto, e spostiamo il cursore in questa visuale, il cursore non cambia di altezza. Eravamo dall'alto e la sua altezza è rimasta sempre sul piano di base. Quindi quando noi siamo dall'alto, lo spostiamo, lui rimane sempre lì. Se io mi trovo di profilo con l'asse X che si muove da sinistra a destra, se io sposto il cursore qui adesso con maiuscolo tasto destro, il cursore non cambia nella sua coordinata Y, però adesso appunto per esempio è sollevato da terra. Se mi risposto nella visuale dall'alto e lo sposto ora, rimane alla stessa altezza cui era prima. Quindi non è che nella visuale dall'alto il cursore sia sempre all'altezza del pavimento, nella visuale dall'alto il cursore non cambia altezza. Così come se lo posiziono qui appunto, mi metto nella visuale da davanti, adesso spostandolo lui non cambia di posizione Y, però mantiene anche un'eventuale posizione distante dagli assi. Se ora mi metto in posizione 3 e lo sposto, ecco che ha mantenuto la sua coordinata X e non quell'altra. Quindi ricordandoci questi modi per spostare il cursore, in pratica se io volessi adesso riportarlo a casa potrei mettermi dall'alto, fare maiuscolo clic circa al centro, poi se mi metto anche di profilo, maiuscolo clic lo rimetto lì e vedete è tornato più o meno al centro. Quando sono invece in una visuale come questa e faccio maiuscolo clic, il cursore rimane sul piano quello che avremmo visto cliccando canvas, quindi rimane su questo piano qui, su quello del canvas. Vedete è rimasto lì rispetto al fatto che l'ho spostato da questa posizione, però è più scomodo. Quindi io vi suggerisco in genere per spostare il cursore è meglio posizionarsi sempre, se vogliamo che rimanga per esempio sul pavimento, spostatevi nella visuale dall'alto e così è facile lasciarlo sul pavimento. Ora per esempio se volessi fare un albero qui faccio maiuscolo clic lì e metto il cursore in questa posizione. Ora se cominciassi a disegnare comunque sto disegnando in un piano che passa per l'origine. Perché? Perché devo andare a selezionare qui appunto la posizione del mio piano di disegno. Invece di origin scelgo 3d cursor. Da questo momento in poi quando disegno qualcosa, questo qualcosa è disegnato su un piano che passa per il cursore in questione. Quindi ovviamente dipende sempre dalla vista perché qui c'ho scritto view, però il piano, il canvas in questo momento è posizionato sul cursore. Se vado a spostare il cursore qui, ecco che il canvas si posiziona lì. Però come vedete ho spostato il cursore in una vista non dall'alto e il risultato è questo. Quindi adesso lo riporto un attimo all'origine e mi metto dall'alto, faccio maiuscolo clic qua giù ed ecco che il cursore è la giù. Se visualizzo canvas è anche molto facile capire adesso dove si trova il disegno. Ovviamente guardate questi alberi sono tutti storti perché? Perché ero in questa visuale e quindi non hanno rispettato, hanno rispettato il piano della vista, non quello ortogonale. Se vogliamo forzare quel piano, come abbiamo visto, dobbiamo utilizzare questa modalità. Invece di view, scegliamo per esempio front e in questo modo il piano di disegno, vedete, rimane sempre bloccato sul piano frontale e quindi qualsiasi cosa disegni da qualsiasi angolazione rimarrà bloccata su tale piano e non importa in quale angolazione io mi trovi. Nascondo il canvas per semplicità, premo B e mi libero di un po' di queste cose disegnate di troppo. Tra l'altro notate come cambiando visuale possiamo facilmente, se mi metto qui, premo B, posso facilmente cancellare tutto quello, ops B di nuovo, che sta sopra o sotto l'orizzonte semplicemente appunto mettendomi in una visuale ortogonale. Torno dall'alto, posiziono il cursore qui, mi metto in questa visuale e mi va benissimo front come piano, il piano XZ e qui posso finalmente andare per esempio a disegnare un inizio di albero che ovviamente sarà piatto sul piano XZ, quindi magari poi mi metto sull'altro piano e disegno un pochino altri rami in quest'altra direzione. Potrei anche nella modalità view non interessarmi del fatto che per esempio queste cose potrebbero essere inclinate in maniera strana e anzi approfittare del fatto che siano inclinate in maniera strana per ottenere delle forme un po' più particolari. D'altra parte in questo caso sto disegnando un albero e quindi ora ho disegnato un albero qui, se voglio andare a disegnare una casa qua giù non devo fare altro dall'alto che spostare il cursore, scegliere il piano di disegno, quindi per esempio il piano front e potrei anche proprio mettermi davanti con il tasto 1, se io sollevo una riga vedete che si trova qui, potrei fare un piccolo segnetto lì in maniera da ritrovarlo e ovviamente sono libero di usare tutti gli strumenti di disegno che abbiamo imparato in questo periodo e quindi adesso torno dall'alto magari sposto il cursore qua giù e ora quello che disegno qua giù verrà posizionato confermo confermo verrà posizionato vedete qui dietro potrei anche non utilizzare front ma usare sempre view e posizionarmi con le viste il piano potrei usare sempre view semplicemente perché mi sposto con la visuale laterale e quindi riesco a posizionare le cose nello spazio nel modo in cui preferisco se io adesso facessi una riga attenzione vedete la posizione è quella del cursore quindi ho ottenuto qualcosa che non vorrei se faccio comunque questo vedete devo sempre stare attento perché ho scelto come piano view quindi mi rimetto in questa posizione tiro alla riga e sono sicuro siccome adesso abbiamo già un po di elementi in scena è interessante anche questo modo di posizionamento che si chiama stroke il modo di posizionamento che si chiama stroke cerca nella sua modalità base di posizionare i segni a partire da quelli che ci sono già quindi per esempio adesso in quest'albero se io parto da questo punto in cui c'è già un segno vedete lui cerca di intuire la posizione nello spazio di quel segno che c'è già e fa partire il mio disegno da quella posizione rendendo quindi piuttosto semplice aggiungere dettagli dove abbiamo già disegno e ovviamente disegna sempre sul piano in questione quindi nel caso di questa casa per esempio se io mi mettessi in posizione frontale e facessi così vedete mi posiziona una riga che cerca di seguire quello che è già tracciato e quindi si appiccica come vedete a quello che è già tracciato e ha creato questo strano scalino ovviamente rende anche facile continuare a disegnare dettagli perché appunto se aggiungo questa riga viene posizionata correttamente in quella posizione se invece vado ad aggiungere dei dettagli qui me li ritroverò se ho l'accortezza di partire sempre da un segno esistente nella posizione giusta e quindi può rendermi la vita più facile ovviamente se invece disegno un luogo dove segni non ce n'è non sa come comportarsi e quindi tendenzialmente finirà per disegnare qualcosa sull'origine degli assi in questo caso ho scelto di disegnarlo lì perché appunto ho cominciato a disegnare dove non c'era alcun segno se però comincio dove un segno c'è già sono a posto se comincio nel vuoto e finisco sopra a dei segni che ci sono già l'interpretazione in genere funziona ugualmente per cui posso sempre fare qualcosa del genere ed essere abbastanza sicuro che va a finire al posto giusto quindi questa modalità stroke è piuttosto utile per questo motivo se vi accavallate su più segni cominciate a non sapere tanto cosa succede perché vedete addirittura preso questi segni qua giù quindi abbiate un po di attenzione in questa modalità ma è davvero comoda soprattutto appunto per per costruire elementi come appunto un albero dove a partire da un ramo ci si allunga magari si cambia angolazione e si continua a salire con altre aggiunte che si appiccicano a quanto è già stato disegnato ok quindi è piuttosto facile in questo modo ci sono delle opzioni appunto tutti i punti oppure i punti finali e gli altri vengono interpolati oppure il primo punto quindi guardate se io scelgo primo punto e ricomincio a fare quel segno che ho fatto prima che passa su diverse posizioni lui utilizza solo la posizione del primo punto come elemento di posizionamento e questo è in alcuni casi molto più comodo da usare se io adesso trascino una riga da qui a lì sono sicuro che sia finita vedete in questa posizione e quindi anche se continuo così posso facilmente fare tutte queste righe con una certa sicurezza adesso vedremo perché c'è anche quello schizzo dietro in cui magari potrebbe interpretare male i primi segni però facciamo questa prova e hop là vedete sono finiti esattamente ognuno dove doveva finire perché ho selezionato first point mentre invece se scelgo end point si posiziona tra il primo e l'ultimo e gli altri cerca di interpretarli per cui forse vediamo facendo una cosa del genere si vedete ha interpretato correttamente e forse lo avrebbe potuto fare anche dove andassi ad incrociarmi con altre righe per cui se per esempio mi metto in questa posizione e traccio questa riga così è riuscito a interpretarla correttamente quindi vi consiglio di utilizzare queste modalità perché rendono molto più facile disegnare quindi oltre alla prima modalità nella quale si apre che è quella di all points nel quale cerca di far coincidere tutti i punti sono molto interessanti anche queste soprattutto appunto first e first and first and è comodissimo in una situazione del genere nel quale si vuole connettere qualcosa che sia già stato disegnato senza essere disturbati da quello che c'è in mezzo quindi bisogna un pochino mescolare tutti i modi scelgo free di cursor mi metto dall'alto posiziono il cursore al posto giusto e ora mi metto su una vista laterale e posso disegnare con una certa sicurezza che quello che disegno finirà al posto giusto ecco adesso ovviamente nella vista laterale non riesco facilmente a posizionarmi se ho lo strumento draw con control posso facilmente cancellare quello che ho fatto e adesso diventa molto più facile invece di free di cursor scegliere appunto stroke e con primo e ultimo punto posso di nuovo prendere appunto per esempio la riga e vado a collegare questi elementi in modo molto più facile ecco qua questo adesso permette di avere un vero e proprio disegno 3d siamo in grado di andare a posizionare il nostro disegno da qualsiasi parte l'altra modalità che voglio farvi vedere è l'ultima che è questa che si chiama surface la modalità surface si appiccica sulle superfici già esistenti ovviamente serve della geometria per poterlo fare quindi per esempio io adesso esco dalla modalità draw e torno in object mode e crea un oggetto per esempio una semplice sfera quindi ho fatto maiuscolo a per aggiungi scelgo uv sphere e viene aggiunta una sfera nel posto dove si trova il cursore non è esattamente dove la vorrei comunque mi sposto dall'alto premo la g per spostarla la sposto qui premo la s per scalarla e adesso ho una sfera in questo posto magari con la g e poi z la sposto leggermente in giù ora se torno a selezionare il mio oggetto green pencil e torno in modalità draw posso selezionare la modalità surface la modalità surface permette di disegnare sulla superficie degli oggetti esistenti quindi se traccio degli elementi vengono vedete piazzati sulla sfera immediatamente sono piazzati esattamente sulla sfera per quello li vediamo rovinarsi un pochettino e non li vediamo perfettamente perché vanno a compenetrarsi con la sfera quindi abbiamo a disposizione questo valore di offset che ci permette di spostarli un po fuori dalla sfera per esempio scegliendo questo offset e sono ancora vado un attimo a cambiare il colore del world in maniera che la sfera si veda un po meglio anzi piuttosto che il valore del world andiamo a spostare la luce perché stiamo utilizzando la modalità renderizzata e quindi questa sfera è illuminata da questa luce quassù esco dal draw mode entro in object mode seleziono la luce mi sposto dall'alto e la sposto qui in maniera da illuminare meglio questo lato della sfera riseleziono il green pencil se troppo scomodo selezionarlo sulla scena perché è sottile ricordatevi che potete sempre selezionarlo qui e torno in draw mode dobbiamo riuscire a spostare un po di più quindi proviamo 0,1 ecco adesso il segno permane se andiamo a vedere bene di lato ci accorgiamo che rispetto ai primi segni che erano che era davvero aderente questo è un po più esterno se io aumentassi questo valore di surface a un valore molto alto per esempio 1 se disegnassi qui vedete è molto più esterno 1 è comunque il valore più alto che ci sia però ecco possiamo vedere con un segno più sottile che 1 è davvero distante insomma quindi si trova a svolazzare sopra alla sfera il nostro segno premo la b e cancello ricordatevi che guardate cosa succede se io ho la sfera qui ma premo b e cancello attenzione che anche se noi non lo vediamo perché c'è la sfera davanti comunque andiamo a cancellare tutto quanto quindi occhio a questo sono in modalità surface 0,1 va benissimo e quindi posso andare a disegnare quello che voglio con una relativa sicurezza che il disegno rimanga sulla sfera in alcuni casi come vedete questo qua è finito fuori adesso facciamo così prendo le razor point e vado a cancellare questo segno torno in draw mode e faccio degli ulteriori segni adesso vado a fare una specie di tratteggio e quando è uscito dalla sfera è perché probabilmente avevamo degli altri oggetti che hanno attraversato la nostra vista quelli appunto di gris pencil e quindi ma in ogni caso premendo control posso facilmente andare a rimuovere quello che non mi interessa ora vedete ho disegnato sopra la sfera la sfera tra l'altro mi occlude la vista degli altri oggetti e quindi mi permette volendo di nascondere quello che c'è dietro ricordatevi anche che probabilmente se state facendo queste cose volete che la visualizzazione del 3d depth order sia su 3d location molto probabilmente è quello che volete anche se in questa scena le cose non cambiano molto ora se nella mia scena qua su tolgo l'occhietto alla sfera vediamo che abbiamo realizzato degli stroke che stanno su questa posizione per cui tra l'altro adesso potremo di nuovo tornare in modalità stroke e scegliere per esempio first point per andare a disegnare delle eventuali elementi che vogliamo che partano da quanto già già disegnato con stroke possiamo partire dai segni che abbiamo già per costruirne di altri abbiamo visto i principali modi per poter posizionare i nostri tratti nello spazio in questo momento quindi per esempio adesso mi sposto di nuovo mi metto molto lontano posiziono il cursore qua giù scelgo la modalità 3d cursor mi posiziono da davanti alla mia scena e potrei andare a disegnare delle colline sullo sfondo e vedete sono laggiù vado a cambiare materiale prendo e creo un nuovo slot nel quale faccio un materiale con un fil magari scegliamo appunto un colore grigio e ora vado a riempire questi elementi in maniera che facciano da sfondo e vedete sono finiti qua in fondo se posiziono il mio cursore adesso un po' più avanti torno nella stessa visuale posso aggiungere un altro elemento più in primo piano e vedrete ce l'avrò qui in primo piano magari scegliamo ecco sia un riempimento che e quindi posso creare adesso tutte le mie illusioni di parallasse molto facilmente spostandomi nelle varie posizioni torno adesso per esempio dall'alto e posso disegnare magari scelgo di disegnare dietro gli stroke che ho già realizzato faccio un bel rettangolone grande così ho anche un pavimento e ovviamente voi siete comunque liberi di tenere gli oggetti di scena vedete adesso questa sfera comunque mi occlude mi fa questo effetto di andare a coprire la casa ovviamente dovete andare in object mode e selezionare un particolare materiale per la sfera se volete che abbia un certo comportamento dal punto di vista visivo quindi per esempio per replicare lo stesso grigio che hanno gli oggetti di gris pencil per queste cose vi rimando a un corso di blender di base adesso abbiamo costruito in breve tempo una scena tridimensionale nello spazio che per esempio per chi realizza degli storyboard o comunque se vogliamo fare uno schizzo preliminare di un disegno può essere molto utile come pre visualizzazione per andare a cercare la giusta inquadratura poi appunto in qualsiasi momento ctrl alt 0 la vostra telecamera finisce nella visuale che avete in questo momento premendo f12 ottengo un render a volte possono esserci dei difetti visivi di questo tipo che comunque nelle prossime versioni di blender sono stati risolti sono difetti visivi dovuti alla trasparenza soprattutto perché tutti questi segni li ho fatti con pencil che è uno strumento che ha una certa trasparenza e quindi a volte la sovrapposizione degli elementi sullo stesso livello perché sono sullo stesso livello può comportarsi in maniera strana in realtà quello che bisogna fare qui è modificare il valore di opacità del segno andare su un modificatore di opacity aggiungere quindi il modifier opacity e al materiale 1 che è quello col quale abbiamo fatto tutto il nero aumentare di molto l'opacità come vedete questo fattore può essere aumentato anche oltre 1 facendo in questo modo adesso i segni non sono più trasparenti ma sono opachi sono diventati neri facendo in questo modo ho risolto il problema della sovrapposizione magari in questo momento background può essere più carino ecco guardate anche questa cosa che ve la mostro subito io adesso vado a cambiare lo sfondo e ovviamente vedete che succede il gris pencil è un materiale che non reagisce alla luce quindi giustamente resta dello stesso colore invece la sfera è un oggetto tridimensionale e le sue ombre le sue luci sono determinate dalle luci di scena e quindi avendo messo word in azzurro quello che capita è che la sfera si colori di azzurro se non voglio che questo capiti senza andare a discutere di materiali però dovete cliccare sul singolo oggetto recarvi qui nella palette dei materiali selezionare quindi use nodes e invece di principled bsdf potete selezionare emission se voi selezionate emission il colore che mettete qui sarà il colore di rendering per cui potete premere pesca pesco questo grigio scegliendo emission posso dargli un colore unico e singolo che è quello del mio sfondo per esempio o qualsiasi colore io voglia ovviamente ma come vedete è un colore piatto da quel punto di vista non andrà a dare fastidio ai nostri segni di grease pencil adesso avete tutti gli strumenti per disegnare nello spazio esattamente dove volete qui abbiamo fatto solo uno schizzo ma se avete seguito tutte le altre lezioni sapete che potete disegnare davvero quello che volete con tutti gli strumenti con tutti i colori riempimenti e come come preferite insomma alla prossima